La campagna continua ad essere interessata da un campo di alta pressione supportato in quota da un promontorio di natura africana. Alta pressione che nella giornata di sabato 14 marzo subirà un cedimento a causa dell'inserimento di aria relativamente fredda dal nord Europa, condizioni di diffusa stabilità dunque su tutta la regione ancora per la giornata di oggi. In dettaglio il tempo previsto per sabato 14 e domenica 15 marzo. Sabato aria moderatamente fredda raggiungerà la nostra regione determinando oltre ad un vistoso calo delle temperature qualche precipitazione segnatamente lungo la dorsale appenninica. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle aree interne dell'Appennino, vento in rinforzo dal pomeriggio dai quadranti settentrionali, mare poco mosso. Domenica 15 marzo. Cielo poco nuvoloso lungo le aree costiere, addensamenti anche consistenti interesseranno il settore orientale dell'Appennino dove non si escludono occasionali piovaschi, temperature in ulteriore diminuzione, venti tra moderati e forti da nord-est e mare poco mosso sotto costa, mosso molto mosso a largo. La tendenza. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà nuovamente ad espandersi verso la nostra penisola, garantendo condizioni di stabilità con temperature in progressivo aumento nei valori massimi. Tuttavia, nella giornata di lunedì avremo ancora una moderata ventilazione da nord-est in attenuazione da martedì. Per maggiori dettagli si invitano i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti curati da Giuseppe Stabile e sul sito www.meteosette.it